Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dal maltempo, segnaliamo nevischio e vento forte sul tratto appenenico dell'A1. Sta nevicando in A15 tra Borgotaro e Pontremoli, raccomandiamo di guidare con prudenza. Per la mobilità, possibili disagi per traffico, in A1 in uscita a Firenze Sud, provenendo da Bologna. Sulla Firenze Mare, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, verso Firenze e in Fipili, tra la Strassigna e Firenze Scandiccia, ancora una volta verso il capoluogo. Per il traffico urbano di Firenze, rallentamenti sui viali di circonvallazione. Possibili rallentamenti in zona viale 11 agosto, dove troviamo restringimenti per lavori potatura siepe. Uno sguardo al traffico ferroviario per un problema agli impianti di circolazione tra Prato e Montale Agliana, possibili ritardi nell'ordine di 20 minuti per i treni in linea. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!